Uè a tutti vichinghi vichinghe, sono Mitch, bentornati nella mia rotuvalalla, ho appena finito di leggermi questo libro Diventare forti e agili come un leopardo, di Kelly Starrett, con la collaborazione di Glenn Cartosa Mi è piaciuto, l'ho trovato interessante, ma molti punti trattati mi hanno fatto storcere a dir poco il naso Questo mi ha portato a fare delle ricerche nell'internet in merito E non ho potuto notare un articolo molto molto interessante, pubblicato niente meno che nella pagina del sito del team Joggernaut Jtsstrends.com, mi sembra che si chiami Come si titola l'articolo? Il leopardo contro il mondo Ma partiamo dall'inizio Kelly Starrett, questo signore qui, dottor Kelly Starrett, ha scritto essenzialmente questo libro che è diventato un best seller immediatamente Grazie al suo libro, principalmente, ha ottenuto una fama a livello mondiale È diventato un monumento, un personaggio da conoscere e studiare nel mondo del fitness Il libro, Diventare agili e forti come un leopardo Ha venduto tantissimo, è stato un successo a livello mondiale e ha portato un sacco di fama al suo autore Proprio come è successo per Mark Ripeto, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con il video delle 5 ripetizioni Mark Ripeto è lo starting strength Anche questo testo ha generato un'onda di fedeli adulatori in tutto il mondo Del leopardo e del suo autore Il dottor Starrett, appunto Come sempre, in contraposizione agli adulatori, ci sono gli scettici che creano scompiglio nella vicenda del leopardo Il libro del leopardo è un testo che dopo una presentazione di basi Perché riguardano la stabilizzazione, la struttura della colonna vertebrale, del bacino, delle spalle E tutte le articolazioni adiacenti Presenta una guida passo passo per risolvere, appunto, i problemi di sindrome dolorose Prevenire gli infortuni e ottimizzare la prestazione sportiva E appunto è collegato tutto alla stabilizzazione Alla compattezza e alla salute delle articolazioni della colonna Mi ha fatto storcere il naso sin da subito senza andare a cercare su internet Proprio per via della sua attitudine a darti questo metodo magico universale Che vada bene a tutti Se mi seguite da un po' sapete cosa penso in merito ai metodi magici universali Ma comunque questo dettaglio non mi ha fermato E ho continuato e ho finito di leggere il libro Che comunque trovo molto interessante E vi consiglio sicuramente Ve lo lascio in descrizione per il link di Amazon Costa una quarantina di euro Ma torniamo a noi Perché non mi piacciono i metodi universali? Molto brevemente Perché siamo sì, tutti simili Ma allo stesso tempo siamo tutti diversi Ne abbiamo parlato tanto in questo canale In merito a questo argomento Il nostro corpo sì, all'inizio della nostra esistenza È uguale in tutti Ma come sappiamo viene forgiato da diversi fattori In base alla vita che viviamo E a come la viviamo Tutte variabili che è impossibile tenere in considerazione In un testo O comunque da racchiudere in un metodo universale Torriamo al libro Nel primo capitolo Starret parla di stabilizzazione E organizzazione della linea mediana La colonna vertebrale Nel secondo parla della regola delle articolazioni Dove praticamente Parla praticamente del fatto che L'articolazione unica dovrebbe essere La nostra colonna vertebrale E tutti i movimenti dovrebbero avvenire Con la colonna neutra Basandosi appunto sulla flesso e estensione Delle anche e delle spalle Invece che sulla torsione Sulla flessione e estensione Della colonna, delle vertebre E poi arriva il terzo capitolo Leggi della forza di torsione E qui ho iniziato ad avere più attenzione verso quello che stavo leggendo Più scetticismo verso quello che stavo leggendo Adesso vi spiego perché Qui Starret parla sempre di stabilizzazione Riferendosi però alle articolazioni e i rispettivi acetaboli Quindi la cocsofemorale e la glenomerale per quanto riguarda spalle E anche Essenzialmente l'omero che si incastra nella scappola E il femore, la gamba che si incastra nell'anca L'autore dice quindi che Al fine di creare posizioni stabili per il nostro corpo E per eseguire appunto i movimenti classici che eseguiamo E mettere al sicuro le articolazioni Bisogna creare una tensione nei fianchi e nelle spalle Che si trasferirà appunto nelle articolazioni sottostanti Che per esempio per la spalla sono il gomito e il polso Mentre per il femore Per l'anca sono il ginocchio e la caviglia Ok, come generare questa tensione, questa torsione Extraruotando femore e omero All'interno appunto dei loro acetaboli Ed è qui che entra in gioco per la prima volta Nella nostra storia l'articolo che abbiamo citato prima Il leopardo contro il mondo Vi lascio in descrizione anche questo se volete leggervelo con calma L'articolo è scritto da dottor Quinn Hanoch Che è un fisioterapista se non sbaglio Che comunque fa parte del team del Juggernaut Che abbiamo imparato a conoscere grazie a Chad Wesley Smith Quando appunto abbiamo parlato del suo metodo Juggernaut In questo articolo il dottor Hanoch si sofferma In particolare sulle indicazioni che Starrett dà In merito all'esecuzione dello squat E appunto parlando di questa torsione Rotare in femore come indica Starrett Non può che portare ad una estremizzazione Dell'indicazione butta fuori le ginocchia Risultando in una tecnica di squat piuttosto singolare E di dubbia sicurezza E vedendo le immagini che state vedendo in questo momento Capite bene anche il perché Questa rotazione del femore È da precisare che a detta di Starrett Deve essere fatta con le punti dei piedi Che puntano rigorosamente verso avanti O al massimo con una leggera Angolazione Con una leggera apertura dell'angolo Ma non oltre un certo grado Un di 10 gradi mi sembra di ricordare di aver letto Per fare in modo appunto che l'extranotazione Avvenga dal femore solamente Quindi il ginocchio punti verso l'esterno E non sia il piede a ruotare Quindi ruotare tutta la gamba Tutta l'articolazione Della gamba e della coscia Tra l'altro Starrett mi ha fatto notare Nel libro che è una cosa che non avevo mai pensato Più i piedi sono extra ruotati Più difficile sarà cercare di extra ruotare il femore Attivando quindi i rispettivi muscoli In particolare del gluteo Ma comunque torniamo a noi Non è questo che ci interessa In merito a questo c'è stato anche un dibattito Tra Starrett e Enoch C'è stato in esclusiva su YouTube questo dibattito Mi sembra di aver capito Ma quello che veramente mi ha fatto pensare È stato proprio l'articolo di cui parlavamo prima Dottor Murray, chiropratico statunitense Porta delle evidenze in merito Agli svariati casi di infortuni Derivati da indicazioni come quelle del Date da Starrett Del buttare fuori le ginocchia O comunque creare delle extra ruotazioni Così importanti del femore Cito ora il dottore traducendo quello che dice Nell'articolo più o meno Riportandolo con termini un po' più Comprensibili Ho notato una correlazione molto frequente Tra la sindrome patello femorale E la tecnica di spingere in fuori le ginocchia Nello squat Ho visto la stessa peculiarità Per quanto riguarda gli infortuni E la schiena bassa negli atleti di CrossFit Posso affermare che una volta passato il dolore Derivato dall'infortunio È bastato correggere la loro tecnica Per farli squattare senza dolore Dottor Brandon Murray Quello che penso io È che solitamente quando si crea Come dicevo prima È che solitamente quando si crea un metodo Lo si fa per vendere E non per portare a casa Qualcosa di veramente universale Che efficace Che appunto si possa Adattare su Qualsiasi individuo in questo mondo E questo libro non fa eccezione Questo testo è sicuramente da leggere Da un sacco di spunti interessanti Che ho addirittura applicato Su alcuni dei miei atleti che seguo Ma quel Alcuni È da sottolineare Più e più volte Starret Invece che rispondere Sì è vero Quello che dico Quello che scrivo Non può essere applicato Su chiunque Risponde al dibattito Dicendo che Ginocchia in fuori Non è la stessa cosa Di creare una torsione Come dice lui Io risolvo problemi Alle ginocchia E alla schiena A tutti Facendo anche Infrangere record mondiali Doc Starret Mi stavi simpatico Il tuo libro mi piace L'ho comprato Lo consiglio Ma hai cagato fuori Una frase del genere È semplicemente Un insulto A tutti i personal trainer Fisioterapisti E coach Che sbattono la testa Quotidianamente In questi problemi Con i loro atleti È dire una cosa del genere È stupido È ipocrita Ed è una mancanza di rispetto Verso di noi Perché farti seguire da un PT O andare da un fisioterapista Quando il mio libro Risolverà tutti i tuoi problemi Questo è quello che sta dicendo Kelly Starret Capite che È una minchiata E non sono soltanto io Che lo penso così Non voglio attaccare In alcun modo Il libro O il suo autore Voglio solo far aprire gli occhi Trasmettere il messaggio Che la generalizzazione Specialmente quando si tratta Di salute E benessere fisico Della persona Psicofisico Della persona È una minchiata colossale Leggete il libro Lo trovate in iscrizione Ripeto È figo Ed ha un sacco di spunti interessanti Ma comunque Tenete conto anche di quello Di cui vi parlo in questo video Bene Viking e Viking Questo era il video Se il video vi è piaciuto Vi invito a mi piacere il video Come se non ci fosse domani Commentate qui sotto Fatemi sapere cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Attivate la campagna In linea delle notifiche Se non l'avete ancora attivata Noi ci vediamo assolutamente In un prossimo video Viking e Viking Io vi ringrazio per la visione E ciao Grazie